Musica 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 Guarda, 48 km e sono i primi 30 mi sono fermato a pisciare a urinare e non l'urinata totale ho iniziato tirando fuori il beagle prima mi hanno superato in tre mi scappa la caca tre ore che mi scappa la caca cinque ore qua sei ore che corro tre ore che mi scappa la caca ma me la tengo perché se mi fermo anche a fare la caca mi superano in 70 e stiamo facendo una ultra di 74 km fuori Musica Musica Dopo 65 km il posto più emblematico della gara eccolo qua eccolo l'Alpin che fa la guardia Musica 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 Ma questa lo fa la vedere che t'acca gatti che buono Musica All'arrivo anche per John Benamati 10 ore 10 ore 10 primi 39 10 ore 10 primi 39 10 monti 10 ore 11 ore 10 ore